A Radio Ebbuno ospitiamo con grande entusiasmo due ragazzi che hanno fatto un bellissimo percorso e che sono arrivati al Festival di Sanremo, i Santi Francesi, benvenuti ragazzi. Grazie mille. Allora avete fatto un percorso, avete vinto X Factor, poi siete passati da Sanremo giovani, volete raccontarcelo questo percorso? Com'è iniziato? Beh, è iniziato un sacco di tempo fa in realtà. Nel lontano 2016. Nel lontano 2015, ti scordi sempre. Siamo cresciuti praticamente in simbiosi sia musicalmente che umanamente in questi ultimi nove, quasi dieci anni ormai. Diciamo che sì, poi la svolta c'è stata con X Factor, che effettivamente è stato il primo evento della nostra vita che ci ha dato un modo di vivere di musica, quindi di essenzialmente pagarci da mangiare e l'affitto con la musica. Poi Sanremo giovani è stata un'occasione, una possibilità che non ci siamo mai preclusi, era la terza volta in realtà che ci iscrivevamo a Sanremo giovani, nel primo caso non arrivamo fra neanche i 64, nel secondo caso non passammo alla finale, e il terzo caso è andato bene. E adesso siete sul palco del teatro più importante, della manifestazione più importante d'Italia con una bellissima canzone che è L'amore in bocca. Grazie. Grazie mille. Come è nata l'idea del testo? Che cosa avete voluto portare? Che cosa volete far ascoltare alle persone, anche ai ragazzi che vi ascoltano? Beh, la canzone in realtà in questo caso viene fuori quasi totalmente per caso. Il titolo stesso è frutto di un errore di scrittura, parte dall'amaro in bocca, scritto in una nota sul mio telefono un annetto fa, nello sbagliare a digitare il correttore ha deciso di scrivere L'amore e quindi ci ha regalato questo titolo che noi abbiamo tenuto, sepolto per due o tre mesi, per poi scrivere il pezzo nel giro di 4-5 ore circa con Cecilia Del Bono, che è un'autrice, artista giovane, molto molto brava. C'è da dire che il pezzo non ha un vero e proprio racconto di base, non c'è un messaggio, non c'è una storia da raccontare, sono più delle suggestioni messe l'una in fila all'altra che ruotano attorno al titolo del brano, quindi l'amore in bocca. E voi queste suggestioni dove le andate a cercare? Camminando per strada, guardando la televisione, ascoltando la radio? Ovunque, tutte queste cose in realtà, sicuramente ci sono mondi che ispirano di più, nel nostro caso magari mi viene in mente il cinema, che sicuramente ispira molto, a volte anche solo vedere un film ti dà l'idea per un concetto, per un pezzo che si potrebbe creare. Ultimamente anche molto la fisica, o comunque tutto ciò che è scientifico ci affascina molto e cerchiamo di portarlo invece in quello che è prettamente romantico e quindi umano. E dividete tutto al 50%? A livello di soldi? A livello di soldi non lo so e non lo voglio sapere, a livello artistico? Dipende dal pezzo, in questo caso è anche diverso perché c'è anche una terza persona. 33,3. 33,3 esatto. E siete sempre in simbiosi, dicevate prima che vi capita mai di litigare su qualcosa, su una canzone, su una melodia, su un arrangiamento? Ma dal punto di vista artistico in realtà praticamente mai, non succede quasi mai. Capita sempre che c'è una sorta di, non lo so, di litigio silente dentro di noi, che però poi arriva una commissione naturale, una sintesi naturale durante la sessione. Quindi sì, forse ci sono dei conflitti ma sono sempre silenti. Prima ci avete detto di un bel complimento che vi hanno fatto sulla canzone che è sorprendente, che vi ha sorpreso. Sì, vabbè è una cosa che cerchiamo di fare abbastanza spesso noi nei nostri brani, no? Che segue un po' la nostra tendenza a non riuscire ad andare dritti per più di dieci minuti di fila. Nei pezzi è la stessa cosa, ogni minuto deve succedere qualcosa di diverso, perché ci annoiamo forse, o perché ci diverte. Una soglia dell'attenzione è molto bassa. Quindi sì, questa canzone parte come una ballad, in realtà fino al primo ritornello, dalla seconda strofa in poi diventa tutt'altro, quindi ci fa molto piacere. E cosa succederà sul palco del Teatro Ariston la serata dei duetti? Succederà che faremo questo pezzone incredibile che è stato coverizzato, credo, un miliardo di volte. Infatti ci siamo presi questo rischio, Ale me l'ha proposto all'inizio, io ero un po' indeciso, poi ho capito cosa intendeva e come intendeva arrangiarla e la sua idea. Ci sono entrato anch'io e faremo quindi alleluia con skin. Sì, follia pura. Bene, complimenti. Noi amiamo la vostra follia e anche gli ascoltatori di Radio Bruno amano la vostra follia, quindi a voi il piacere e l'onore di salutarli. Grazie mille, un bacio regalo gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno. Ciao.